Si chiama Porn Preya Kang, è una giovane ragazza di 27 anni di età, viaggiava con una compagnia a basso costo da Bangkok, credo che sia in India, fino a Ho Chi Minh in Vietnam, il 2 settembre 2023. Il viaggio di questa ragazza sono convinto che non se lo scorderà più, il volo infatti è stato letteralmente da incubo, il passeggero infatti dietro a lei ha messo i suoi piedi sporchi e pussolenti sul suo bracciolo. Risultato finale, la puzza era indescrivibile ed era letteralmente infinita, voleva semplicemente prendere sonno, fare una dormita, una pennichella, nel viaggio o meglio nel volo tra Bangkok, da Bangkok fino a Ho Chi Minh, ma la puzza, il fetore e la nausea si sono andate a propagare nella gassa in questione all'interno dell'aereo, tanto che il viaggio è diventato un inferno in piena regola. La ragazza infatti ha vissuto attimi drammatici per la puzza e soprattutto quindi per quel fetore incredibile grazie al passeggero, io direi che ha posizionato i piedi nel bracciolo togliendosi i calzini e le scarpe lasciando un fetore devastante. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, iscrivetevi, mi raccomando, ciao a tutti.